Interactive Key Award, lei è il General Manager dell'Interactive Advertising Bureau e quindi le chiediamo di premiare anche la prossima categoria Chi è che si è portato via il microfono? Scambiandolo per una scultura postmoderna Grazie, esattamente Categoria Social Marketing E allora vediamo subito quali sono le nomination per questa categoria www.iwikifone.com www.sognatoridelgusto.it www.mcdonut.it Huggies Little Walker Jeans Il vincitore è Huggies Little Walker Jeans Ok, vediamo subito il video www.sognatoridelgusto.it 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 Il cliente Kimberly Clark Ritirano la scultura e il diploma il direttore marketing Enrico Castellani e il brand manager Emanuela Catrani Per la web agency che è agency.com Ritira il diploma il CEO di agency.com Franco Ricchiuti insieme alla camp manager Gabriele Cucinella C'è questo scambio di... Nessuno vuole stare Sulla botola Allora procediamo con la consegna della scultura A chi la vogliamo dare? Voilà Complimenti Ok, allora si spartiscono per loro i premi Complimenti ragazzi, un passo avanti Per la foto E complimenti ancora Ciao, a presto Complimenti Arrivederci Ciao Ciao